Oggi, sull'unico pianeta che abbiamo a disposizione, la Terra, ci abitiamo in 7 miliardi e saremo 9 nel 2050. Non abbiamo proprio tutti lo stesso stile di vita, ma se ognuno di noi vivesse come un occidentale, oggi avremmo bisogno delle risorse di un pianeta e mezzo. Nel 2050 ce ne servirebbero 3. Noi aumentiamo di numero, ma le risorse che abbiamo a disposizione non fanno lo stesso. Si stima che entro il 2050 avremo meno acqua e meno cibo. Ad oggi, infatti, i sistemi agricoli consumano l'80% delle risorse idriche destinate alla produzione di cibo. I terreni sono occupati per il 26% da pascolo e per il 33% per la produzione di mangimi per animali. Poi ci sono i cambiamenti climatici, che aggravano la situazione, diminuendo le risorse idriche e la produttività agricola. Quello che possiamo fare ogni giorno per salvaguardare le nostre risorse più importanti è cercare di seguire modelli alimentari più sostenibili, quindi per esempio ridurre gli alimenti di origine animale e favorire il consumo di cereali, frutta e verdura. E poi, per contribuire ad abbassare quel 33% di cibo prodotto che viene buttato via, potremmo ogni giorno impegnarci ad azzerare i nostri sprechi, partendo proprio dal cibo e dall'acqua.